Salve a tutti ragazzi bentorni in questo video di Geometry Dash oggi c'è un po' di livelli e poi ho il livello 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 ma si normali io ci credo che non lo abbia tutti ci crediamo tutti ragazzi normali ok ragazzi eccoci che si carica la lezione non troppo non c'è stato sformato se non sbaglio poi ricordo il video ma aspetta che c'è stato sformato la canzone è bella pronti bellissimo bellissimo ed è anche lungo ragazzi che si vede mi fa tutto ma non mi fa tutto che è piacere questo che è piacere che è piacere questo e non è suena C'è quanto c'è ne ha messo a farlo? Perchè non mi c'è più che gli hanno la barra? A be' dettagli Hai pensato che è la barra? La canzone è cammina ancora Quanto c'è ne ha messo? No, devo anche c'è ne ha messo Quanto c'è ne ha messo a farlo? Quanto c'è ne ha messo a farlo? C'è perché c'è certo lunghi questi pochi? Non ho fatto lunghi questi pochi, oh mio Dio 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 Che bello Oh mio Dio Che bello Che bello Oh mio Dio non è possibile questo livello è stato continuato tutto è bene andare non è lungo è l è lunghissimo è molto liquido è molto liquido faccio continuo 2 minuti 3 minuti 3 minuti 3 minuti 3 minuti 2 minuti 2 minuti 3 minuti 3 minuti bellissimi ragazzi ormode mio like eccoci ragazzi tornati che ci ha messo un po' caricarlo oddio 2 non mi piace niente più difficile qua 3 ora ce ne saranno 5 secondi non lo so fare quello mettiamo harder c7 arriviamo eccoci insame come fare a prenderla dal centro si 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 che dici che dici nerd vabbè ragazzi ok endgame eccoci eh ecco eh ecco 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 Scusa, allora se è tutto così, no, non so, non può usarlo io, se è tutto così, allora forse è abbastanza semplice, no, ne va bene, uffa, tutti da caricare, ultimo livello qua e poi basta qua, eccoci! Ok, 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 ok no aspetta do you like yeah finissimo ragazzi è un bel like easy oggi ci proveremo a fare intanto questo qua perché la canzone è fantastica ascoltate sentire bellissimo ah non lo so da qua però avete sentito però ragazzi comunque adesso ci facciamo ah pure hexagon forza l'avete visto? sentite di più allora aspettate diciamo jumper voglio completarlo jumper è un po' difficile però so dove sono tutte tre le stelle la prima è piuttosto difficile non so dove la prendo ditemi voi se la prendo però si è lasciato un like in questo momento io la prendo avete lasciato like? non sento ancora quel potere aspettate sento qualcosa quanti pollici in su vedo vuol dire che la devo prendere? ci provo? ok ci ha provato eh time machine che si bellissima ultimo livello è proprio speriamo che va bene è un luogo di tre secondi della partita è piuttosto difficile non pare che non senti ancora i dettagli ancora basta oh mio dio pensavo mi dice va bene bellissima ma questa non la vendo è la seconda eh fino a poi la vendo non ho completamente ho fatto ho fatto ho fatto ho fatto di riuscire a comprobarli le mie le 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 vabbè ragazzi ci vediamo nel prossimo video di gioco di dash lasciate like iscrivetevi al canale ciao